In concomitanza con quella grande partita di Verona è arrivata anche una statistica di Opta che dice che l'Inter in questo momento è la prima squadra al mondo per dati statistici davanti al Manchester City. Ti chiedo quanto ti rende orgoglioso questa cosa che ovviamente è frutto di un lavoro lungo e a livello proprio di Champions quanto questa cosa può pesare nel darvi ulteriore responsabilità? Chiaramente quella statistica l'ho vista, fa piacere però è sempre una statistica nel senso che noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società per vincere trofei. Insomma noi dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso, nelle ultime 11 partite abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi e nonostante questo siamo ancora lì insieme a tutte le altre perché altre squadre stanno correndo come noi. Quindi sarà un lungo viaggio come lo è sempre stato quest'anno ancora di più perché sono d'accordo come diceva Federico, le squadre davanti si sono rinforzate, hanno speso parecchio sul mercato e quindi tutte come l'Inter vorranno arrivare più in alto possibile. Mediaset Buongiorno Simone, le chiedo, finora percorso netto, eccezionale in Champions League, in campionato siete lì, grande prova di forza a Verona, parlando dell'immediato futuro, come questa squadra può ancora alzare l'asticella? Il livello si può farlo? Come e dove? Bisogna sempre lavorare di più, adesso in questo momento che è positivo è il momento migliore per spingere, per cercare di migliorarsi ancora di più perché stiamo avendo risultati positivi però cerchiamo sempre di vedere dove potevamo fare meglio. Anche insomma domenica a Verona è stata una partita dove abbiamo fatto cinque gol in un tempo però abbiamo visto dove il primo tempo abbiamo commesso qualche disattenzione che ci poteva costare caro, quindi bisogna cercare di migliorarci ogni giorno, che andiamo da piano, che veniamo qui a San Siro perché l'anno scorso è stata una cosa, adesso è un campionato nuovo, una Champions nuova dove ci sono tante insidie ogni volta. Sport Italia Ciao Simone, vista l'esigenza assoluta che è l'Ipsia di provare a fare punti, ti chiedo se può essere un piano tattico quello di, non ti dico aspettare, ma insomma che si scoprano loro in partita e poi ti chiedo se ti ha fatto sorridere il fatto che nonostante i casi arbitrali ieri sia stato calma piatta nel post partita rispetto a due settimane fa. No, per quanto riguarda gli arbitri insomma il mio pensiero l'ho espresso, bisogna cercare di aiutare tutti noi, io in primis che a volte durante le gare per l'adrenalina a volte anche io insomma passo l'aria tecnica, quindi bisognerebbe tutti noi addetti ai lavori a dare una mano a loro. E questo lo dico non come frase fatta ma perché è giusto così. Per quanto riguarda l'Ipsia, quei ragazzi insomma ne ho parlato, è una squadra che ha sei anni che fa la Champions e nel 2020 è andata in semifinale, fino a sabato era la miglior difesa in Bundesliga, era seconda dietro il Bayern Monaco, poi adesso è la seconda difesa perché ha preso quattro gol sabato. È una squadra di grandissima qualità, nelle quattro partite che ha giocato contro la Juventus, contro il Liverpool e contro l'Atletico Madrid secondo me avrebbe meritato molto di più. L'unica partita che ha perso nettamente è stata col Celtic, è una squadra molto riconoscibile con un allenatore che tanti anni che è lì, che l'ho incontrato anche ai tempi del Salisburgo quando era in Austria, è una squadra molto organizzata con ottimi giocatori di qualità, probabilmente la classifica non rispecchia quello che ha fatto l'Ipsia in Champions, mentre in campionato insomma essere secondi per 13 partite, essere andati terzi adesso dietro il Bayern Monaco, sappiamo che affrontiamo una squadra molto molto forte. Cazzetta dello Sport. Eccoci mister. Ciao. Mkhitaryan in un'intervista della scorsa settimana ha detto siamo fiduciosi di poter arrivare un'altra volta in finale di Champions, ci crediamo. Volevo chiederti un pensiero, se condividi questo pensiero, se percepisci dentro il gruppo, dentro lo spogliatoio la possibilità, la convinzione di arrivare in fondo anche quest'anno. Grazie. Quello è l'augurio, insomma sono d'accordo con Michi, sappiamo che ci sono altre 36 squadre che hanno lo stesso desiderio dell'Inter, noi abbiamo fatto queste quattro partite nel migliore dei modi, però sappiamo che ne mancano quattro, abbiamo bisogno di punti a partire da domani, a partire dalle prossime due, saranno contro due squadre tedesche che sono due squadre molto forti che a livello europeo stanno facendo bene da anni, con allenatori preparati, con giocatori di qualità, poi ci saranno gli ultimi due a gennaio, ma chiaramente deve proseguire il nostro cammino facendo quello che abbiamo fatto fino ad oggi, guardando poco lontano, guardando l'Ipsia senza pensare a quello che sarà il campionato. Corriere dello Sport. Ciao Simone, volevo sapere se c'è la Noglu in condizioni di giocare dall'inizio domani e anche Frattesi come sta, visto che oggi non era in campo allenarsi. Per quanto riguarda Frattesi ha avuto un problemino, si sta trassinando un problemino da dieci giorni alla Caviglia, già prima di andare in nazionale le ultime due partite, aveva qualche problemino, è andato in nazionale, è tornato, domenica è entrato a Verona, ieri ha fatto un po' di allenamento, la Caviglia gli ha dato qualche problema, adesso chiaramente sarà da valutare perché oggi non era tranquillo perché non si sentiva la Caviglia a posto, chiaramente vedremo, speriamo di non perderlo perché insomma Davide sa quanto è importante per noi, quanto lo è stato e quanto lo sarà in questa Inter perché è stato un giocatore molto molto determinante e lo sarà. Adesso speriamo che si possa rimettere in breve tempo e senz'altro lo farà. Per quanto riguarda Ciala e Lautaro che erano stati assenti a Verona, ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti, poi chiaramente domani mattina valuterà il da farsi sulla formazione. Acerbi ha avuto la contrattura, quello che avevo detto dopo Verona, fortunatamente gli accertamenti hanno dato seguito, è stata una contrattura, non c'è lesione, vediamo da qui a domenica se riusciamo a recuperarlo, però insomma è una cosa più breve rispetto all'altra volta. Tutto sport? Buongiorno mister, a proposito di Acerbi volevo chiedere se oltre a De Rai chi può eventualmente giocare in centro nel caso ci fosse l'emergenza, se bisse che bastoni sono i due nomi o ci sono anche delle opzioni a cui non pensiamo. E l'altra cosa, visto che vi siete allenati a San Siro, come ha trovato il campo? Perché Mila-Juventus non mi sembrava comunque bellissimo. Quindi volevo capire come l'avete trovato, grazie. Ma siamo venuti per questo, insomma hanno cercato, i tempi non erano lunghi, hanno cercato di migliorarlo, perché l'ultima partita con Napoli sia i giocatori dell'Inter e del Napoli si erano un pochettino lamentati perché il campo non era al massimo, è normale che l'hanno rifatto prima di Juventus, prima di Mila-Juventus, è stata giocata solo una partita sopra, in questo periodo dell'anno lo sappiamo, è stato così in tutti gli anni, da quando sono qui, gli ultimi 15 di novembre e tutto dicembre si soffre. Poi, come sempre sarà, a gennaio lo rifaranno e lo faranno bello come è stato fino alla prima settimana di novembre. Un'altra domanda, un'altra domanda, un'altra domanda. Per quanto riguarda San Siro è chiaramente una spinta per noi, è uno stadio importante, e i nostri giocatori lo sentono. San Siro è uno stadio che trascina e io spero di rimanere a lungo qui all'Inter per espirare quest'area di San Siro perché stiamo bene qui e poi speriamo di rimanerci a lungo e speriamo che i nostri tifosi ci possano trascinare come hanno fatto sempre in questo mio periodo dove sono allenatore dell'Inter. Per quanto riguarda Bisse, che è un giocatore che si è meritato lo spazio e tutto quello che ha avuto con il lavoro, perché è arrivato da un campionato chiaramente diverso, campionato danese, ma lui è stato bravo a capire subito i nostri principi, a capire subito quello che gli chiedavamo insieme al mio staff. È stato molto bravo nell'apprenderli italiano perché è stato uno dei giocatori con cui ho lavorato in questi 15 anni che alleno, dove ha cercato subito di capire, voleva capire, voleva parlare bene la lingua per cercare di capire tutto quello che gli chiedavamo. Deve continuare così perché è in continuo miglioramento e sono contento per lui. Corriere della Sera. Ciao. Volevo chiederti se per domani c'è un balottaggio Bissec-Bastoni sul centro-sinistra e se è giusto aspettarsi qualcosa di più in area di rigore, in zona goal da Taremi. Per quanto riguarda Taremi sono molto contento di come sta lavorando, di come si è inserito. È normale che venendo all'Inter lui sapeva che avrebbe trovato concorrenza. Così è stato, ha avuto un problemino alla fine del ritiro che ha rallentato la preparazione negli ultimi 15 giorni, però è un grande professionista, ben voluto dai suoi compagni. Ho grande fiducia in lui, deve continuare a lavorare come sta facendo. Poi per quanto riguarda Bissec-Bastoni, a sinistra può giocare per domani. Insomma, Bastoni domenica ha giocato 60 minuti, nonostante le due partite con la Nazionale. Penso che possa partire Bastoni anche se non ho ancora scelto. Chiaramente Bissec mi piacerebbe, mi piacerebbe vederlo anche centrale dei tre, però la domanda che faceva prima il collega, pensando a un centrale dei tre senza cerbi e De Vrij penserei a Bastoni perché l'abbiamo visto anche in Nazionale, un giocatore, Alessandro, intelligente che può farlo tranquillamente. FC Inter 1908, poi se non ci sono altre domande chiudiamo. Ciao mister, nell'ultimo periodo almeno la sensazione è quella che anche dal punto di vista fisico stiate migliorando rispetto all'inizio stagione. È stata questa una preparazione nella quale si è tenuto conto anche del Mondiale per Club o comunque di quanto possa essere lunga la stagione fino a giugno inoltrato? Sì, perché sappiamo di questa cosa, è una cosa nuova per tutti noi allenatori perché due anni fa c'era la novità dei Mondiali dove c'era una sosta di quasi due mesi, novembre-dicembre, quest'anno sappiamo che c'è il Mondiale di Club alla fine dell'anno. Quello che abbiamo fatto è che abbiamo fatto una preparazione uguale per tutti, uguale per Bissec che è arrivato il 13 luglio, per Di Marco che è arrivato il 22 luglio, per Turam che è arrivato il 1 agosto e per Lautaro che è arrivato il 5 agosto. Quindi è stata una preparazione simile per tutti. Chiaramente quelli che sono arrivati il 13, penso a Bissec e Carlos Augusto, è più facile da smaltire rispetto a un Lautaro, Turam e Pavard, e i due olandesi che sono stati gli ultimi ad arrivare. Ce n'è un'altra qui in seconda fila e poi chiudiamo. Sì, buongiorno mister. Prima parlavamo della statistica dell'Inter, migliore squadra del mondo, quindi volevo chiederle, lei da quando è arrivato all'Inter, se si sente ad oggi uno dei migliori allenatori del mondo, perché chi segue l'Inter da anni è passato dalla banterira, dove si faceva fatica quasi a battere squadre come l'Apple Berceva, che aveva vinto qua 2-0 contro l'Inter, al poter davvero credere di fare filotto e di essere comunque una squadra imponente e in Serie A e in Champions League, giocando tra l'altro un grandissimo calcio. Quindi sicuramente merito dei giocatori, ma anche merito suo. È vero che chi si loda si imbroda, però... No, io... Grazie. Perché per quello posso dire solo che io ho avuto la fortuna, insomma, di arrivare a una società importante e ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari che, insomma, in questi tre anni e mezzo mi ha secondato in tutto insieme al mio staff, ma sappiamo quello che abbiamo fatto, sappiamo quello che dovremo fare, la nostra ambizione qual è, sappiamo che quando si sbaglia, una formazione, un gol, un cambio, si è criticati, come è giusto che sia, perché siamo in un ambito calcistico e tutti quanti a volte, insomma, mettono l'abito di allenatori e tutti quanti vogliono fare gli allenatori, ma ci sta, perché siamo dentro da tanti anni, insomma, il mio auspicio, il mio augurio è quello di continuare a far bene per l'Inter, sapendo che ho un gruppo di ragazzi straordinari che in questi tre anni e mezzo mi ha dato tutto per me, per la mia società, insomma, per i nostri tifosi. Grazie, buonasera a tutti.